Sì, benissimo. Che le che fai tu o faccio io? Questa cosa è la scuola, non la voglio sentire più. No, Lela. Sono proprio contenta di vederti, Lela. No, Lela! Lasciamo stare tutte cose vecchie. Buon bene, è il nostro bel rione. Stiamo realizzando una scarpa maschera da viaggio. Vorrei la mano di vostra figlia. La mano della vaca. Te faccio la mano. Mi vuoi sposare? Sì. Mi vuoi chiedere se ci vediamo? Mi vuoi chiedere se ci vediamo. . Maia. Maia. ERA e. Grazie a tutti.